1, 2, 3 Perché noi siamo senza paura! Ma quant'è che Chiara non si palesa? 7 anni, ti rendi conto? Ma non è che Chiara è incinta? Come questa cosa del matrimonio mi pare bizzarra. Ma poi il San Regis. La signora Gentile ha prontato una suite per voi. Una suite? Accidenti! Io non sono una suora. E non sono neanche più attico. Io sono un fenicottero. Benissimo. Mi prende per la vita. Mi sbatte sul cofano. Il strappare Ciseno. Baccarella? No, la perla. E penso, e non mi piace. Allora, sì, infatti. Fatti. Io sono venuta perché vi voglio bene. Ma non chiedetemi di restare. Perché gli addio al nobilato ha avuto una grande tristezza. Non sono una signora Una con tutte stelle della vita Non sono una signora Una per cui la guerra non è mai finita Non sono una signora Donne ubriache che parlano di dimensioni membri Corna, occasioni perdute Poi a un certo punto che arriva Che? Lo spogliarellista Ma volessi Dio? Ma allora Dio c'è! È tutto nero Cosa stai facendo qua? Si è presa Ma questo disagiato sarebbe il tigre? Abbiamo ragione di credere che abbiate introdotto un uomo di colore nella struttura Nessun uomo Ormai siamo tornate come la Madonna Manda, manda, manda! Puoi sapere perché io e te lasciamo a farci così male? Perché siamo sorelle Cretina! Siamo senza paura Banzai!